Viareggio Trampolino di Lancio da Vice Commissario di Polizia a Capo della Digos alla Questura di Prato. Una bella promozione per Nicole Fetto, 30 anni originaria di Roma ma cresciuta a Napoli, laureata in giurisprudenza. Il trasferimento è previsto per il prossimo 8 gennaio. Nicole Fettel è arrivata a Viareggio nel gennaio del 2016, presentata dall'allora acquistore Vincenzo Ciarambino. Una bella carriera per la funzionaria di polizia che a Viareggio lascia comunque il cuore. Sono stati due anni intensi in cui abbiamo fatto tante cose insieme, è un percorso bellissimo che porterò sempre nel cuore perché comunque il primo reparto non si scorda mai. Viareggio è stata una famiglia, una grande famiglia per me. Verrà sostituita da Giovanni Calagna, 30 anni palermitano, al primo incarico dopo che è uscito dalla scuola di polizia. Alla neodirigente della Digos Pratese le congratulazioni e gli auguri da parte della nostra redazione. Lascio un personale meraviglioso, operatori che hanno tantissima voglia di fare e sicuramente anche tanto lavoro. Nicole Fetta Commossa ha donato una targa al commissariato di Viareggio e al suo personale.